Si è conclusa la fase, la sessione quella stagionale del campionato di C2, innanzitutto è con Canicati, parliamo del futsal Canicati 5, del tetrico Canicati che non ha disputato, non disputerà i playoff per la distanza di 10 punti. Sì, infatti ieri è stata l'ultima giornata, ci sono stati i verdetti finali, noi abbiamo concluso il campionato al quinto posto, però nonostante ciò non possiamo fare i playoff perché in virtù della regola 10 punti, però devo dire che alla fine questo risultato ce lo singa perché piazzarsi al quinto posto vuol dire che abbiamo fatto bene. Voi avete riposato nell'ultima giornata, le altre partite invece hanno dato il verdetto che c'è la Nissa che è stata promossa, adesso i playoff, come proseguirà questo campionato? Sì, la Nissa diciamo che alla fine ha fatto una bella rimonta perché loro a fine andata eravano quarti, poi naturalmente ci hanno creduto, hanno preso degli rinvorsi dei giocatori provenienti dall'Ennese e quindi hanno fatto una rimonta, siamo arrivati ai primi in classifica, nelle ultime due giornate hanno scavalcato il Machitella che era dall'inizio che era in testa della classifica. Quindi alla fine hanno meritato e quindi l'anno prossimo sanno il C1. Per quanto riguarda invece i playoff ci sarà il Machitella che è già in finale e aspetta la vincente tra la Vigor e l'Atletico Campobello. Quindi anche il Campobello ha un'ottima squadra perché anche loro si sono rinvorsati e molto probabilmente penso che faranno bene, quindi è un'altra pretendente per ambire al C1. Per quanto riguarda invece la zona bassa della classifica? La zona bassa della classifica, il Gagliano è stato un retrocesso mentre ci saranno i playoff tra lo Sporting in Gela e i nostri cugini della città di Canegatti faranno appunto questo spareggio a Gela per cercare appunto di salvarsi e di rimanere in questa categoria. Hanno due possibilità perché innanzitutto la prima possibilità è la semifinale playoff che la giocheranno a Gela. Nella peggiore ipotesi dovessero perdere farebbero la finale in campo neutro con la perdente dello spareggio del Girona di Palermo. Quindi ancora è tutto aperto e mi auguro comunque che la squadra del presidente Alessandro Lo Giudice possa salvarsi. Che campionato è stato Giac? Ma è stato un campionato che alla fine i risultati sono le squadre hanno meritato quello che hanno seminato perché poi alla fine le squadre più attrezzate a mio modo di vedere sono state la Nissa 5, la Nissa 5 sull'Apro Nissa perché alla fine aveva già un organico buono perché aveva nella rosa due brasiliani. Poi con l'avvento di questi tre ragazzi di Enna che avevano un'esperienza in Serie B hanno dato quel tocco in più. Il campo bello e poi c'è l'attento del campo bello del direttore Sebastiano Caizza che all'inizio si era organizzato anche bene per cercare di vincere il campionato. Però hanno avuto una partenza un pochettino stendata però poi con l'arrivo anche di Caglià poi hanno annullato una serie di vittore di fila. Infatti secondo me saranno la squadra penso che veramente può ambire al salto di categoria. L'Atletico Canigatti che campionato programmerà per il prossimo anno? Sì, infatti noi nelle prossime settimane faremo una riunione societaria perché insomma dopo questo campionato che siamo partiti così perché l'avevamo organizzato proprio negli ultimi istanti dell'escrizione per il campionato di agosto e quindi ci ha dato molto entusiasmo. C'è il nostro Presidente Vincenzo Urso che quest'anno si vuole programmare per fare qualcosa veramente di competitivo e perché no organizzarci per rampire anche noi magari l'anno prossimo a fare il salto di qualità. Come e poi voglio anche chiudere dicendo che voglio fare i complimenti al Lagas Fussal di Mister Castiglione del Presidente Peppe Paradisi perché loro sono il C1 però disputeranno il playoff per fare la Serie B. Quindi come membro della Commissione Studi Agrigento, come membro della Federazione e mi voglio complimentare con loro ma anche con tutte le altre squadre della provincia di Agrigento perché ho visto quest'anno che il movimento del caccia 5 nella provincia di Agrigento è cresciuto notevolmente siamo 5 squadre di cui c'è l'Argas che l'anno prossimo se tutto va bene potrebbe fare un camminato nazionale di Serie B e quindi anche sotto questo punto di vista, questo punto di vista di veste sono molto soddisfatto di come è andato quest'anno.